col direttore siamo sentiti però non abbiamo sinceramente messo in piedi niente ecco sono sicuramente due due giocatori che interessano ma niente di niente di più ecco diciamo che c'è stima da parte del direttore soprattutto per ciceretti che già avuto e che conosce anche meglio di me quindi però non c'è niente ad oggi niente in piedi direttore vi aggiornerete vi siete insomma scambiati una data ci sentiamo no 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 ci sentiamo col direttore nel caso insomma sia qua i rapporti sono ottimi quindi c'è nessun tipo di trattativa ad oggi senta per quanto riguarda invece magnaghi sembra un profilo interessante per l'avellino beh simone è il ragazzo che sta facendo sta facendo benissimo avellino da quello che che leggo cerco in quel ruolo però come dicevo prima adesso è un giocatore che che sta a ponte terra sta bene lì e penso che è il nostro ma il ponte terra solo della stretta insomma fino a fine anno senta possiamo immaginare che buoni rapporti del direttore di somma con ciceretti possano favorire l'arrivo del calciatore ad avellino questo dovete chiederlo di somma a me non lo so sicuramente amato e tanti anni che fa che fanno le categorie superiori quindi adesso solo il direttore ecco potrebbe convincerlo diciamo così